Ciao, oggi vi insegnerò a fare dei confetti con degli micro animaletti su. Siete pronti? Andiamo! Allora, le cose di cui abbiamo bisogno sono confetti, pasta di zucchero di diversi colori, arancione, rosa, bianca, nera, gialla, uno stecchino, un tagliapasta, un matterello e colla alimentare. Pronti? Andiamo! Allora, prendiamo il confetto e ci mettiamo su un po' di colla. Adesso facciamo un maialino. Pallina! E l'applichiamo. Adesso facciamo una pallina un poco 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 più piccolina per la testa. Ok. E l'applichiamo sul davanti. Ok. Ora il maialino cosa c'ha? Capodina! al ricciolino. Prendiamo una pallina molto 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 piccola e facciamo un vermicello e la attacchiamo sul posteriore e le diamo una forma di ricciolino. Ok. Rigiriamo. Ci facciamo le quattro zampette. Quindi quattro palline piccole piccole. E le mettiamo alla base del corpo. Uno, due, tre e quattro. Ok. Fatto questo, ci manca il musetto. Pallina! La schiacciamo un po' e le diamo una forma leggermente ovale. Così. e vediamo se va bene come grandezza. Ma sì, io direi di sì. Ok. Ora, con lo stecchino, questo è uno stecchino classico per fare spiedini, andiamo a fare i buchetti delle narici. Uno e due. Ehi, ciao! Ora, con la pallina bianca, facciamo gli occhietti. Allora, consiglio segreto segretissimo. Fatevi sempre strabici gli occhi, perché se li volete fare dritti vi verranno strabici. Quindi voi fate gli strabici a posto e fate a cavallo. Occhio uno. Pallina due. Ok. In modo tale che gli date anche un aspetto un po' più simpatico. E pupilla. Con la pasta di zucchero nera, fate delle micro-micro palline e le andate a posizionare al centro dell'occhietto. Uno. E uno, due. Com'è? Yeah! Bellino! Ultima cosa, le orecchiette. Andiamo. Uno. E uno, due. Aiutiamoci con lo stuzzicadenti in modo da far aderire la pasta. Oh, che carino! Immaginatevi una tavolata. Una festa di compleanno di un bimbo. Adesso facciamo una piccola petta. Confetto. Lo bagniamo. Prendiamo pasta di zucchero giallo. Ne facciamo una pallina. E poi, ecco qua. E la applichiamo al centro del nostro confetto. Ora, con la pasta di zucchero nero, facciamo le strisce al centro. Le dobbiamo fare sottili, 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 sottili. Facciamo uno. Tagliamo l'eccesso. Ecco qua. Ecco qua. E due. Eccoci qua. Occhietti, sempre strabici. al centro del visino. Quindi, uno. Pallina. E la seconda pallina per il secondo occhietto. Schiacciamo un po'. Pupille. Pupille. Palline nere. Al centro dell'occhio. Uno. e due. E due. Com'è? Bellino anche questa. Cosa ci mancano? Le ali. Quindi, pallina bianca. La schiacciamo. Stesso con l'aiuto dello stuzzicadente. La prendiamo. E le diamo una forma un po' ovale. E premiamo un po' nella pasta di zucchero. In modo tale da infilarla all'interno della pasta. E la pasta di zucchero rimane rivolta verso l'alto. In modo tale che sembra che vuoli. Facciamo la stessa operazione di qua. Ecco qua. Ok. Anche la petta è finita. Facciamoci un fiorellino sulla petta, va? Pallina arancione. Ecco qua. E cinque petali. Uno. Due. Tre. Quattro. E il quinto un po' più piccolino. Ecco qua. Due confetti. Con due microanimali. Per voi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.